Ma c'è con chi lavora, ma con chi sta il potere? Ci piacciono Malcolm X e le patere! Ma c'è con chi lavora, ma c'è con chi lavora, ma c'è con chi lavora! Ma c'è con chi lavora, ma c'è con chi lavora, ma c'è con chi lavora! I nostri manganelli sono fuoggi e petali, non stude in che paura non ne ha, non stude in che paura non ne ha! Lo voglio dire ora, lo voglio dire adesso! 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 Lo voglio dire ora, lo voglio dire ora, lo voglio dire adesso! Lo voglio dire ora, lo voglio dire ora, lo voglio dire adesso! Lo voglio dire ora, 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 Grazie a tutti. Un'altra volta, un posto di sorrenti e sorrentesse. Liberi tutti, liberi subito, liberi tutti, liberi subito, tutti, liberi subito. La gente come noi non volerò, la gente come noi non volerò, la gente come noi, la gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non volerò mai. Tutti liberi, liberi subito. Per questo è il fiore della vita Non potrete mai libera